Io personalmente ripeto, se fosse il Ministro della Giustizia, difenderei assolutamente le intercettazioni telefoniche e da verità, perché il Paese si deve difendere. Rilascia il suo sfogo in Consiglio Comunale il Sindaco dell'Aquila Massimo Cialente, che si scaglia contro chi divulga le intercettazioni di un'inchiesta in corso di indagine, criticando amaramente il clima di tensione, sia politica che giudiziaria, che si respira in città. Sanno tutti che si sta indagando sui lavori fatti a casa mia nel 2004, quando tutto pensava che aveva fatto il Sindaco. Lo scontro politico ci può stare di tutto. Una cosa, se in questo scontro politico si utilizzano strumenti, non è legge. Un clima, al limite delle esasperazioni, all'indomani la pubblicazione delle intercettazioni telefoniche dell'ex consigliere comunale dell'Aquila Pierluigi Tancredi, coinvolto nelle inchieste giudiziarie sulla ricostruzione post-sisma, do-to-des e re-z-razionem. Tancredi è tornato alla ribalta delle cronache, in seguito alla pubblicazione di alcune intercettazioni, che chiamano in causa proprio il Sindaco Cialente e il suo ex capo di gabinetto Pierpaolo Pietrucci. A questo punto incomincio a dire, mi diranno perché non l'ho fatto e non l'ho detto finora, non l'ho detto perché non volevo far cadere la giunta Cialente e perché me li devo riservare come testimoni sia Cialente che Pietrucci. Così, recita Tancredi, nel corso della telefonata intercettata e poi pubblicata, ma il Sindaco, oggi in consiglio, respinge al mittente ogni allusione, affermando di essere in attesa di un avviso di garanzia. Notizia questa, di cui in città si chiacchiera ormai da tempo in tutti i corridoi, così come afferma che l'indagine potrebbe riguardare i lavori per la realizzazione della metropolitana di superficie e di rapporti con l'imprenditore Liseo Iannini. Un giornalista, telefona a una persona che conosco e mi dice ti sapeva che vado di superarsi. Si parlava da tempo di un'indagine sulla vicenda metropolitana, lo sapete, no? Sto a dire qualcosa di nuovo?